Arriva dalla Serie B il nuovo allenatore della scuola basket Arezzo, neopromossa in Serie C Gold. Si tratta di Massimo Miller, reduce da una seconda parte di stagione sulla panchina di Domodossola in Serie B. Nativo di Bari, allenatore nazionale, ha iniziato ad allenare giovanissimo all'età di 17 anni nella città natale per poi subito passare alle giovanili della Virtus Bologna. Qui ha lavorato con i più importanti allenatori italiani di pallacanestro giovanile, come Sanguetoli, seguito dal responsabile del settore giovanile Consolini e soprattutto ha allenato due attuali colonne della nazionale italiana come Marco Belinelli, attualmente in NBA, e Luca Vitale. Ha riuscito ad ottenere importanti piazzamenti alle finali giovanili con la squadra da lui allenata e c'entra anche uno scudetto cadetti come assistente di Sanguetoli con gli 82. Grazie ad una lettera di presentazione di Ettore Messina, all'epoca allenatore della gloriosa Virtus Kinder Bologna, riesce ad entrare nella prestigiosa università di Syracuse USA guidata dal leggendario allenatore di college Jim Boehm, dove ha l'opportunità di entrare come osservatore della squadra per l'intera stagione. È stato anche assistente di Meo Sacchetti, attuale allenatore della nazionale, in una Summer League a Treviso. Ha iniziato la sua carriera nei senior in Serie 2 a Iesi, dove è rimasto per cinque anni come assistente, centrando una promozione in A1 come assistente di Gresta e una Coppa Italia come assistente di Capobianco, attuale responsabile del settore squadre nazionali giovanili. Altre esperienze nei settori giovanili di Adria e Pink Bari, di Vallesina Basket, società di cui nera anche dirigente socio, a Fabriano in Bia e Ruvo di Puglia in C, prima della via Domodossola nello scorso campionato. Non potevamo che scegliere un coach molto conosciuto, ha detto il presidente Mauro Castelli, proveniente da categorie superiori per sostituire Omar Serravalli. Ringrazio Umberto Vezzosi per l'impegno nella ricerca di questa figura così importante per la nostra società. È un onore per la sbavera un coach con questa preparazione che ha sposato con grande entusiasmo la nostra proposta. Sono contentissimo di aver firmato per Arezzo, ha detto Massimiliano Milli, principalmente per due motivi che mi hanno fatto subito appassionare a questa nuova avventura. Il primo è l'entusiasmo, la voglia di fare e l'ambizione del presidente Castelli che vuole far crescere ulteriormente la società. Il secondo, non meno importante, è la presenza di Umberto Vezzosi che garantisce qualità e professionalità nel settore giovanile. Il mio ruolo sarà duplice da allenatore della prima squadra che dovrà cercare di vincere più partite possibile, ma allo stesso tempo concretizzare il lavoro fatto dai tecnici del settore giovanile per far crescere i nostri ragazzi anche in un contesto di Serie C Gold. Non vedo l'ora di cominciare.